Eccoci con un nuovo appuntamento di Cancelletto Gossip su Gigi D'Alessio e Anna Tatangello, video. I due, come ben sanno gli appassionati ad oggi non stanno attraversando un periodo molto semplice, a causa di una crisi. Entrambi i cantanti hanno in Italia e nel mondo milioni di fans che ogni giorno le seguono con dedizione. La loro storia d'amore, nata proprio sul palco, circa dieci anni fa, fece molto discutere, in quanto lui era già sposato e papà di due figli. Durante l'estate la notizia del loro allontanamento ha fatto impazzire tutti i giornali di gossip, ma scopriamo insieme cosa sta accadendo ai due.Anna e Gigi, fine di un amore? Anna e Gigi sono una delle coppie più chiacchierate del momento.I due artisti sono stati insieme più di dieci anni concependo anche un bambino. A quanto pare, però, qualcosa non è andato per il verso giusto ed entrambi hanno deciso di separarsi. Il motivo del loro allontanamento non è ancora chiaro ai giornalisti e ai lettori, ma secondo alcuni gossip sembra che la gelosia di D'Alessio nell'ultimo periodo fosse quasi insopportabile. Punto i continui ritocchini della Tatangelo e i vari selfie sul proprio profilo pare abbiano mandato su tutte le furie il cantante, gelosissimo da sempre della sua compagna. Sarà davvero così? Durante un'intervista rilasciata alla Vita in diretta, qualche settimana fa, Gigi ha spiegato di essere ancora innamorato della sua ex e come cantava lui stesso l'amore prima ti unisce e poi ti fa dividere. Riusciranno a tornare insieme? Anna ed il suo manager, nuovo amore per la cantante? Anna alcuni giorni fa, per alcuni impegni lavorativi è stata a Milano ma a quanto pare non da sola punto dopo aver partecipato alle registrazioni di Celebrity Masterchef sia diretta ad una festa accompagnata da Jacopo. Il giovane e il suo agente da quando la cantante e i single pare abbiano stretto un forte legame. I paparazzi, infatti, li hanno beccati insieme per le via della città, sorridenti e felici come una vera coppia. Punto in particolare, il gossip è impazzito per una mano sulla spalla e per alcuni sguardi che lasciavano intendere non solo una collaborazione lavorativa. Cosa sta accadendo tra i due? Anna ha già un nuovo compagno? Al momento è tutto non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Se siete curiosi di conoscere altre news e informazioni sul mondo dello spettacolo e non solo cliccate il tasto in alto a destra accanto al nome dell'autore e segui. Cancelletto Anna Tatangelo Cancelletto Gigi D'Alessio